Benvenuti a questo quindicesimo appuntamento di Come nasce una canzone. Oggi vi parlo di Ero, che è una canzone piuttosto vecchia, circa 15 anni, anche se in realtà la coda di questa canzone, quella in cui dice che si chiama libertà, che si chiama eternità, che si chiama verità, questa coda musicale è nata in fase di registrazione, quindi intorno a ottobre 2018, di poco tempo fa. Le caratteristiche musicali di questa canzone sono da un lato il passaggio di tonalità dalla strofa ritornello che va da Do maggiore a Mi bemolle maggiore, e dall'altro lato questo spostamento di accenti che c'è nella seconda strofa, in sintonia col testo, nella parte dove dice pian piano in un silenzio strano, in quella parte lì c'è proprio uno spostamento di accenti in sintonia col testo. Come sempre potete ascoltare e vedere gratis questa canzone al link di Youtube, che è il primo link di Youtube che vi metto in descrizione, mentre il secondo e il terzo link, come al solito, sono di Paypal e servono per ricevere questa canzone via email inviando un euro a caterinarappocciochioccio alla gmail.com o al secondo link diretto sempre di Paypal. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo episodio di Come nasce una canzone. Grazie a tutti e buona settimana! Grazie a tutti e buona settimana!